Credo che non la trovo da nessuna parte, non l'ho trovata in nessun momento della mia vita Cioè credo di esserci poponata, sono nata esplosiva, energica, estroversa, così Basta soltanto che non ti lasci abbattere e ci rimani Allora, con questo filtro super catfish Volevo dirvi che siccome non posso da un bel po' E sto preparando tante tante cose Da oggi posterò tutti i giorni alle 6-6.30 Allora, grazie mille perché comunque c'è un complimento implicito Ti dirò, io adesso non è per lamentarmi Però mi sta iniziando a non piacere Per cui non voglio semplicemente limitarmi a dire che non mi piace Farò qualcosa, me lenerò di più Sto usando questa lavagna E mano a mano la cancello per farvi capire prima era piena Vi uso come agenda personale Adesso devo studiare scienza umana e latino Postare, leggere ancora un po' il libro Organizzare stasera e la settimana Oltre a lavorare, faccio tutti i giorni gli esercizi di canto Che mi prendono almeno mezz'oretta L'aerosol al cortisone che è anche lì un'altra 20 minuti Scrivo molto per quanto riguarda poesie e canzoni E canto, danza Lo sapevo, sono iniziate le domande Ma perché l'aerosol col cortisone? Adesso vi spiego Story time, tra l'altro molto emozionante Allora, c'è una storia d'amore Una storia d'amore un po' tragica Diciamo, classica storia di Wattpad Io ero all'elementare Mi piaceva questo ragazzo che era un po' il bullo Io ero la sfigatella, non mi sefilava E questo però mi ha detto proprio una cosa Che mi è rimasta qua Cioè io non starei mai con te Perché è una voce troppo stridola, troppo acuta Da quel giorno gli ho cambiato la voce Ho iniziato a fare così Ho iniziato a usare la mia voce che adesso uso E mi ha creato questo spessimento qua sulle corde Che non mi permette che si chiudano bene Si è andato a peggiorare nel tempo Adesso per il canto è un disastro E sto facendo un sacco di esercizi E ariosola al cortisone Proprio per quello, per eliminarlo Ci vuole un po' Per il canto è un sacco di esercizi E ariosola al cortisone